La Spotline Servizi Culturali organizza dei corsi di approfondimento online per tutti i ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado che a causa della didattica a distanza si trovano in difficoltà con i programmi scolastici. Grammatica, letteratura, matematica, storia, geografia, scienze, diritto, economia, inglese non saranno più un ostacolo. Per info e prenotazioni contattare il numero 329 14 88 801 oppure scrivere a infochiocciola spotlinepromotion.it